buongiorno a tutti cari amici del canale oggi inizia un nuovo video in un posto molto particolare sono in mezzo ad un bosco c'è il sole che mi colpisce direttamente e ci sono tantissimi tronchi di abete di larice che sono alle mie spalle e sono letteralmente immerso in una in un contesto completamente naturale e molto affascinante l'idea del video di oggi è quella di provare a trovare qualche scorcio particolare per effettuare delle fotografie ho portato con me la macchina fotografica e voglio provare a vedere se riesco con l'obiettivo macro o con un altro tipo di obiettivo a seconda della circostanza provare a ritrarre qualche scorcio particolare qualche microcosmo quelli che poi piacciono particolarmente a me e cioè identificare delle piccole porzioni di paesaggio dandogli una maggiore enfasi con una fotografia ravvicinata seguitemi fino alla fine del video e non mi dilungo oltre io sono andrea trekking nelle dolomiti trekking fotografici andrea costagallery.com il mio sito guardate che bello questo piccolo tronco che è stato questo era un albero quindi è rimasto tagliato a questa altezza qui e sopra si è depositato del muschio che è molto molto morbido perché durante queste giornate di pioggia appena trascorse tutto il sottobosco si è riempito d'acqua e quindi si è riuscito ad ammorbidire e ad ariempire di morbidezza guardate che bello questo scorcio qui siamo veramente davanti ad una ipotesi di scatto fotografico molto particolare adesso realizzo da qui uno scatto e poi ve lo metto subito dopo nel video come potrete sicuramente immaginare le occasioni fotografiche che abbiamo in un bosco possono veramente essere innumerevoli l'importante è riuscire a concentrarsi e a guardare le cose con calma e con attenzione perché di passo in passo si possono trovare degli scorci dei dei particolari anche delle delle pigne piuttosto che delle foglie che possono magari essere inserite in un contesto e fotografate possono dar vita ad una scena particolarmente interessante davanti a me ho una bese che è stato tagliato e il fatto di essere appoggiato a terra crea una sorta di texture uno sfondo che potrebbe essere utilizzato in modo sapiente per una fotografia anche di ritratto provate solo ad immaginare la persona da ritrarre in questa posizione qui con sullo sfondo tutta questa bellissima texture ricca di colori verdi dalle mille sfumature marroni e anche dei colori molto scuri sul sullo sfondo ma guardate questo bellissimo fiorellino che è uscito quasi indisturbato in mezzo a questo sottobosco meraviglioso abbiamo dei colori che sono fantastici un viola molto morbido accompagnato dagli steli interni di colore verde e bianco molto bello adesso provo a fare una fotografia di questa meraviglia e vediamo che cosa riesco a realizzare sempre più spesso in coda i miei video nei commenti molti di voi mi chiedono come faccio ogni sabato a trovare uno spunto nuovo un'idea nuova per la realizzazione dei miei video quello che vi posso dire che probabilmente vi stupirà è che la maggior parte dei video che realizzo gli riesco ad effettuare gli riesco ad effettuare veramente anche nei pressi della mia abitazione di casa mia nel senso che esco vado in un bosco e veramente le occasioni fotografiche e le occasioni creative sono innumerevoli basta solo concentrarsi un attimo guardate anche questa pianta guardate ha un tronco che è meraviglioso con dei colori spettacolari c'è un punto di grigio molto affascinante e i movimenti che la pianta ha e ci regala attraverso questa risalita sinuosa dei suoi tronchi dei suoi rami per me sono un'occasione sicuramente interessante per dire mi fermo e provo a fare qualche scatto fotografico perché magari c'è un ramo fatto in modo particolare c'è una particolare curva del ramo stesso che dà una certa plasticità l'immagine ed ecco che allora mi fermo faccio lo scatto e in base poi al risultato finale decido se mantenere lo scatto se cancellarlo oppure se provare a rinquadrare spostandomi un attimo il frame della fotografia cambiando la composizione eccoci qua davanti ad un altro scorcio interessante abbiamo questo primo piano con sparso di neve in ombra e il secondo piano con tutti quegli abetti baciati dal sole ora mi fermo e provo a fare una fotografia qui c'è una bellissima luce tra l'altro sta baciando tutto il bosco guardate molto bello qua abbiamo tantissimi abetti e un sottobosco cosparso di foglie che sono cadute durante l'ultima l'ultimo autunno qui abbiamo una bellissima strada silvopastorale più che altro una ex strada ormai piena di erba e che si è trasformata in un sentiero e ci stiamo addentrando in questo bosco meraviglioso oserei dire guardate qui sulla destra questi sassi enormi sui quali svettano questi abetti pazzeschi guardate che bello anche questo è uno scorcio molto interessante da fotografare mentre sulla sinistra abbiamo questi abetti che si arrampicano letteralmente su questa collinetta che sembra quasi ospitarli guardate bellissimo in lontananza abbiamo tantissimi faggi diciamo che è un bosco ricco di abeti e di faggi e ricco anche di dettagli e di opportunità fotografiche guardate questa corteccia molto bella è un panorama incredibile la cosa bella di questo panorama sta proprio nella gestione della luce perché in questo momento abbiamo il sole che riempie gli spazi creando giochi di luci e di ombre rendendo tutto l'ambiente particolarmente morbido ed accogliente questo muschio è meraviglioso guardate la cosa interessante è che abbiamo due tinte completamente differenti di verde sopra abbiamo un verde più scuro molto più vivido mentre sotto abbiamo un muschio diverso più freddo dalle tonalità molto più chiare questo ci dà la possibilità di effettuare uno scatto ricco di contrasti cromatici di indubbio interesse continua la nostra passeggiata in questo bellissimo sentiero guardate che bello dei delle atmosfere veramente particolari tra l'altro c'è un silenzio incredibile credo di essere l'unico in questo momento che si è addentrato in questo sentiero perché non ho visto nessun tipo di movimento di macchine o di persone e come guarda potete vedere nel nel terreno ci sono delle piccole piazze di ghiaccio e di neve che non si sono ancora sciolte guardate che bello questo sasso con queste piante veramente incredibili guardate che giochi di luce adesso provo ad inquadrarle in modo da poter vele far vedere in modo più corretto sono contro luce magari non riesco a farvele vedere bene guardate come sono morbide adesso provo con la macchina fotografica ad effettuare uno scatto contro luce dando provando dare enfasi a una di queste foglie meravigliose e vediamo guardate questo sasso è incredibile oltre alle dimensioni la cosa bella è che è completamente avvolto guardate guardate che bello scenario ogni tanto l'unico rumore che si sente è quello di qualche pigna che cade dalla sommità degli alberi sbatte sui rami e arriva a terra con un tonfo guardate queste foglie queste sono foglie che si sono seccate durante il periodo autunnale ma che sono rimaste attaccate all'albero sono croccanti e fra poco perché stiamo per avvicinarci inesorabilmente alla primavera e fortunatamente dico io inizieranno a prendere nuovamente vita ma guardate che colori incredibili qui abbiamo veramente dei dei verdi che sono meravigliosi letteralmente meravigliosi tra l'altro questo sole che va e viene nel giro di pochissimi istanti ci regala delle occasioni di luce completamente differenti da un momento all'altro e questo è anche il bello di uscire e di farsi una passeggiata a quest'ora sono circa le 3 del pomeriggio è una domenica pomeriggio e mi trovo a val grande che è una bellissima valle in comelico superiore dove ci sono le terme delle dolomiti e da lì mi sono addentrato nel bosco che è un qualcosa di unico perché come potete vedere lo scenario è veramente incredibile l'unica cosa bisogna stare solo un attimino attenti perché chiaramente bisogna anche saper camminare nel bosco guardate questa corteccia corteccia di questo bell'albero che è caduto si è spezzato è arrivato a terra continuo a salire qui nel sottobosco c'è l'evidente traccia del passaggio di qualche animale e guardate anche qui abbiamo una serie di faggi che ora mi fermo e fotografo molto bello veramente molto bello guardate le foglie lì che effetti che fanno qui abbiamo un tappeto morbido che è un piacere da calpestare ora mi fermo mi siedo su un sasso e faccio una fotografia vi posso assicurare che è veramente facile partire da casa prendere lo zainetto uscire e fare una passeggiata in un luogo come questo la mia fortuna è che abito nelle dolomiti per cui in un attimo riesco a trovare contesti simili a questo questo devo dire è particolarmente bello secondo se un altro secondo i miei gusti perché abbiamo l'unione degli abetti con i faggi cosa non scontata e non sempre ricorrente all'interno di un bosco dipende molto dall'altezza dall'altitudine in cui ci troviamo perché spesso e volentieri troviamo solo abetti e più andiamo in quota meno vegetazione chiaramente abbiamo la possibilità di vedere certo è che quando poi saliamo tanto in quota abbiamo anche la possibilità di avere quelle radure molto ampie panoramiche tipiche degli ambienti alpini dalle quali si può ammirare un paesaggio molto vasto molto ampio sono i classici video che ho fatto quest'estate ad esempio se andate a vedere il mio canale c'è il video che ho realizzato all'alpe di nemes e sul monte quaternà ecco lì ero ad un'altezza tale che la vegetazione non c'era più e per cui agli occhi dell'osservatore si apreva si apriva uno scenario mozzafiato e aperto libero quindi a 360 gradi ed ecco uno di quegli scorci che piacciono a me abbiamo il sole che taglia in controluce questi alberi e che forma toccandoli delle ombre incredibili guardate questo gioco queste linee che vengono generate dall'ombra e che creano e conferiscono all'immagine un importante senso di tridimensionalità e di profondità dettato proprio da queste linee prospettiche in dubbio interesse ora mi fermo e provo a fare una fotografia ritraendo questo scenario quello che vedete è inquadrato in questo momento ora provo ad avvicinarmi a quella roccia che è magnifica venite assieme a me credo veramente valga la pena vedere la conformazione di questa roccia tipica dolomia guardate che punto di grigio incredibile abbiamo dei colori bellissimi guardate tra l'altro qui si può notare dell'umidità che esce dalla roccia stessa e cade a terra guardate che bello che muschi e soprattutto la bete che si staglia verso il cielo attaccato lì quasi quasi che sembra per staccarsi molto bello questo questo contesto vediamo un po se riesco a trovare qualche occasione fotografica anche qui guardate ad esempio qua io posso mettermi qui con la macchina fotografica e ricreare una sorta di cornice sulla destra la bete sulla sinistra il sasso e con il telo obiettivo posso avvicinare il secondo e terzo piano dell'immagine conferendo a tutta l'immagine una particolare profondità mi fermo e realizzo lo scatto guardate l'effetto che ho dietro di me è veramente un qualcosa di incredibile questi abeti che si stagliano verso l'alto ci regalano una prospettiva sicuramente particolare adesso io sto salendo e guardate che cosa c'è abbiamo questo sasso enorme non so se si riesce a percepire dal video l'immensità di questo sasso che ho sopra la testa e qui abbiamo una grotta una grotta che si può visitare e superare ora vi porto vediamo se riusciamo ad intravedere qualcosa di interessante credo non si riuscirà a vedere molto perché è molto buio e la fotocamera in queste condizioni di luce fa molta fatica però guardate mi sono addentrato in questo buco che mi porta qui così e da qui si può uscire incredibile questo è veramente un posto incredibile vediamo se riesco a passare oltre senza a farmi male eccoci ce l'ho quasi fatta vediamo eccoci qua vedete questo era il sasso e questo era il buco dal quale sono uscito questo qui beh che posso dire questo è un bosco che ad ogni passo ci regala delle occasioni esplorative che sono mozzafiato guardate guardate che letterale meraviglia sotto bosco bellissimo devo dire che è la prima volta che vengo qui così e è tra l'altro molto vicino alla strada mi sta veramente sorprendendo per la bellezza è un posto dove sicuramente tornerò perché mi sto piacendo molto guardate anche queste cortecce come sono belle molto particolari adesso provo pian piano a tornare verso l'auto per evitare di rincasare troppo tardi perché non vorrei che siccome mi sono allontanato un po non vorrei arrivare troppo tardi all'auto e allora se se poi c'è l'imbrunire insomma è meglio rincasare comunque che posso dire cari amici del canale spero che questo video vi sia piaciuto oggi ho voluto realizzare qualcosa di diverso nell'ambito di un contesto diverso nel senso che si sono in mezzo a un bosco però un bosco di larici che non è la stessa cosa è un po più aperto più ridiradato non ci sono più le foglie per cui abbiamo una profondità e una visibilità diversa rispetto a un bosco di abetti che è molto più chiuso più ombroso adesso vado verso la macchina se questo video vi è piaciuto mettete un like mi fareste una cortesia e condividete il video che così sempre più amici conoscono anche questo canale ed iscrivetevi se volete rimanere e restare aggiornati sull'uscita dei prossimi video video che solitamente escono il sabato e una volta alla settimana in via del tutto eccezionale quando ho la possibilità di farlo faccio magari uscire qualcosa anche durante la settimana tipo il martedì ma questo non lo so ancora se riesco a farcela guardate ora vi saluto con questa bella panoramica di questo luogo meraviglioso che mi ha riempito il cuore emozionato tutti i minuti in cui sono stato qua ho provato una forte emozione una forte pace e serenità siamo nelle dolomiti con medico superiore terme di valgrande a pochi passi dalla strada venite da visitare perché restano nel cuore ve lo posso garantire ciao a tutti e al prossimo video